Grande successo ieri al Parco della Mezzaluna a Cerignola nel Foggiano per l'iniziativa Pane e Pomodoro, promossa dall'assessorato di attività produttive del comune insieme ad alcune aziende e cittadine, con l'obiettivo di distribuire gratuitamente un impasto che è diventato un non-cout nelle calde sere d'estate. Moltissima gente ha affollato i tavoli mentre il sindaco, assessori e consiglieri li hanno distribuiti, anche con un'ottima vena musicale e con tante colonne sonore che sono state cantate dalla piazza presente e con tanta gente. Un motivo in più per stare nelle calde serate d'estate in compagnia.